Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo i titoli delle notizie più importanti nel nostro sommario Impennata di contagi da coronavirus nelle Marche 84 Nelle ultime 24 ore, più della metà in provincia di Ascoli Piceno 12 in quella di Pesaro Urbino, pochi fanesi che hanno scaricato l'appi immune Dal 15 ottobre partirà la campagna anti-influenzale nelle Marche Con un mese di anticipo rispetto al passato Sarà gratis per le categorie più a rischio, ordinate oltre 400.000 dosi L'area vasta pagherà gli stipendi di novembre Tutti gli arretrati e gli scatti di anzianità Da stabilire invece i tempi per l'erogazione dei premi Covid L'annuncio al termine dell'incontro tra il prefetto e i vertici dell'azienda L'emergenza Covid non è soltanto sanitaria La crisi economica si fa ancora sentire Tra i settori più penalizzati c'è sempre quello della ristorazione Quello che invece mi auspico è che la situazione non gravi La situazione economica dei ristoranti Perché altrimenti dopo iniziano i licenziamenti veri Maxi bollette dei rifiuti alle imprese fanesi Gli imprenditori sul piede di guerra Scende in campo Confindustria Che chiede al comune di Fano di rivedere ogni singolo caso Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale Occhio alla notizia Come avete sentito dunque c'è una nuova impennata di casi Di coronavirus nelle marche Ma insomma a leggere bene questi dati Questo è vero anche perché sono aumentati i test 1.500 In totale sono 84 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore 46 in provincia di Ascoli Piceno 12 in quella di Macerata Altri 12 in provincia di Peso Urbino 7 nel Lanconetano E 7 in provincia di Fermo Lo rende noto il servizio sanità della regione Questi casi comprendono per lo più contatti in casa Con persone contagiate Ma anche contatti stretti di casi positivi E altri 10 riscontrati in ambito scolastico Invece i ricoveri sono saliti da 35 a 36 5 degenti sono in terapia intensiva Mentre un paziente è in semi-intensiva A San Benedetto del Tronto E con l'aumento dei contagi è cresciuto anche il numero di coloro Che hanno deciso dopo una prima fase di incertezza Di scaricare l'app Immuni Negli ultimi giorni sono stati superati i 7 milioni di utenti Ma sono ancora pochi invece i fanesi Da un nostro sondaggio fatto questa mattina Che l'hanno scaricata Per tanti mesi in molti hanno preferito non scaricarla La terra è tutelarci Lei è d'accordo l'ha scaricata? No io no perché non ho avuto altri problemi Però lo farò sicuramente perché è una cosa positiva Insomma ecco E' utile per me si Per me si perché c'è in giro gente ancora un po' strana Quindi sono favorevole ma non l'ho scaricata Lo farà? Lo farò Perché secondo me è da fare Negli ultimi giorni è stato registrato un boom di download Anche se a Fano pare che in tanti non ce l'abbiano ancora Ad oggi sono oltre 7 milioni gli italiani che l'hanno scaricata Il 14,7% nelle marche Del totale soltanto circa 300 sono le persone positiva al covid Più di 5.000 invece le notifiche inviate dall'app Allora io ancora non l'ho scaricata ma avrò intenzione insomma Prossimamente questi giorni appunto di scaricarla Non vi preoccupa un po' il fatto di ricevere un messaggino sul telefono Che siete state in contatto con positivi? No no anzi Venga nel senso che ci tutela la nostra salute Lucia non è che sono il massimo Ecco perché forse sono indeciso Magari approfondirò con calma Veramente non saprei proprio C'è chi dice che sei sotto controllo Sinceramente non lo so Sono incerto sono in questa cosa Quindi al momento non la scarica? Attualmente no Dopo si vedrà Però ecco l'importante è con le mascherine Girare tranquillamente Io non l'ho scaricata L'ho scaricata una volta E poi in effetti ho capito che non era Anche io l'ho cancellata Che non mi interessava Non era Cioè non la ritenevo interessante più che altro Ma può darsi come sbagliavo No non l'ho scaricata nemmeno io Secondo me è arrivata troppo troppo tardi Fosse arrivata appena finito il lockdown L'avrei sicuramente scaricata L'applicazione come dicono gli esperti Può aiutare a frenare i nuovi focolai Ma vediamo come funziona È possibile scaricarla in modo gratuito E su base volontaria Su App Store per i dispositivi iOS E Play Store per gli Android Con l'avvio di Immuni Vengono mostrate alcune schermate introduttive Su funzionamento e privacy Poi dopo l'inserimento della regione di residenza E della provincia Richiede di abilitare le notifiche Che vengono inviate Chi si è trovato a stretto contatto Con un utente risultato positivo al virus Avvisandolo del potenziale rischio Di essere stato contagiato Grazie all'uso della tecnologia Bluetooth Questo avviene senza raccogliere dati Sull'identità o la posizione dell'utente Dopo la notifica viene consigliato Di contattare il medico di medicina generale Per i dovuti approfondimenti No, non l'ho scaricato E le dirò anche il motivo Su quale base io mi carico Che non so se sono immune o meno E gli altri? Io ci ho perso una madre Adesso che sta colpendo la popolazione Anche giovane Si stanno un attimino svegliando Ma non fanno niente Fai sì che i test siano A un prezzo Se non lo vuoi fare tu comune A un prezzo accessibile per la popolazione Affinché tutti ci monitoriamo Verifichiamo E ci iscriviamo all'app Immuni Allora questo ha un senso Ma così Io mi sento offesa come cittadina Io do di scaricarla Perché secondo me È un servizio utile Poi logicamente Se ognuno di noi Non la scarica Logicamente Non diventa così utile Quindi Non so Sono già arrivate delle notifiche Che l'hanno preoccupata No Perché secondo me Non avendola scaricata in tanti Il servizio non è così attivo Qualcuno propone Di renderla obbligatoria Ma per il momento Insomma Tutto resta così E quindi su base volontaria Intanto Il prossimo 15 ottobre Partirà la campagna Anti-influenzale Nelle Marche Con un mese di anticipo Rispetto al consueto avvio Il vaccino Sarà offerto Gratuitamente Agli anziani Che abbiano superato I 65 anni di età E alle persone Affette da malattia Che mettono a rischio Di sviluppare complicanze Altre categorie Per le quali La vaccinazione Anti-influenzale È raccomandata Sono gli operatori sanitari E quelli Dei servizi essenziali Le donne in gravidanza I ricoverati In strutture Di lungodegenza E i donatori Di sangue Infine per la prima volta Potranno essere vaccinati Gli adulti Tra i 60 E i 64 anni E i bambini In età compresa Tra i 6 e i 6 anni 6 mesi E i 6 anni L'Asur Marche Che organizza La vaccinazione Anti-influenzale In collaborazione Con altri enti Ha ordinato 421.000 dosi Con un incremento Del 40% Rispetto alle dosi Previste Per la stagione 2019-2020 E ha avuto esito positivo L'incontro Che si è tenuto In prefettura Tra il prefetto E i vertici Dell'azienda Dell'Asur L'area vasta Ha preso l'impegno Di pagare Con gli stipendi Del mese di novembre Tutti gli arretrati Come la quota Di produttività E gli scatti Di carriera Invece Per le progressioni Economiche Entro dicembre Verranno pubblicate Le graduatorie Di merito Del 2019 E il bando Relativo All'anno scorso Infine Sui premi Covid L'Asur E l'area vasta Hanno sottoscritto L'impegno A introdurre I criteri Di ripartizione Che tengano conto Dell'impatto Del Covid Sulla provincia Di Pesaro E Urbino E non sul numero Dei dipendenti In questo modo I compensi Verrebbero equiparati A quelli dei colleghi In servizio A Marche Nord Sono ancora invece Da stabilire I tempi di erogazione E le risorse Necessarie I sindacati Che si ritengono Piuttosto soddisfatti Hanno revocato Dunque lo stato Di agitazione Ma con la promessa Di continuare A vigilare Sugli accordi presi Affinché le promesse Vengano mantenute E dall'emergenza sanitaria A quella economica Nel prossimo servizio Vi faremo Ascoltare la testimonianza Di alcuni ristoratori Che hanno difficoltà Fanno difficoltà A tenere aperti I battenti E a recuperare Gli incassi persi Durante il lockdown Difficile rialzare la testa Per chi lavora Nel mondo della ristorazione Dal 18 maggio In tanti Hanno rialzato Le serrande Del proprio locale Ma il coronavirus Ha stravolto Anche il loro modo Di lavorare Una strada Tutta in salita Per i ristoratori Del pesarese E non solo Alla fine Dal governo Hanno fatto sapere Che non ci sarà Nessuna chiusura Anticipata Per bar e ristoranti Ma chi ha perso Incassi enormi Durante il lockdown Sopravvive con fatica I ristoratori I ristoratori I ristoratori Continuano a lavorare Nel rispetto Delle norme anti-covid Tavoli distanziati Di almeno un metro L'uno dall'altro Con la conseguente Riduzione dei coperti Il ristorante Secondo me In questo periodo Non è che hanno Una situazione Né di vantaggio Né di svantaggio L'unica cosa Che è sicuramente Con un'azione Di terrorismo Del genere In cui Si mette Si danno a volte Delle notizie inesatte Tipo la chiusura Del ristorante Alle 11 di sera Uno fa passare L'idea Che il ristorante È un punto In cui Si potrebbe Contagiare Invece in realtà Il ristorante È un posto sicuro Perché sono state Adottate tutte le normative Se aumenta il terrorismo Già che non c'è La gente E la gente Non è sicura Andare al ristorante Rischieranno anche Di chiudere molti locali Quindi A posto di fare terrorismo Secondo me È meglio Che lo Stato Metta a disposizione Dei fondi Per garantire ulteriormente Invece la sicurezza All'interno dei locali Quello che Se è riuscito a fare Se va bene È ripareggiare Con i numeri D'anno scorso Qualcuno Ha fatto qualcosina di più Ma Cioè recuperare Quello che è stato perso È quasi impossibile Quello che Invece mi auspico È che La situazione Non gravi La situazione Economica Dei ristoranti Perché Altrimenti Dopo iniziano I licenziamenti veri Dal primo di luglio In tutta sincerità Il lavoro È andato bene È andato bene Fino ad ora Ha ricopiato Quasi L'anno precedente Diciamo Di fuori Dall'Italia Si è visto Praticamente Solo qualche Tedesco Qualche Svizzero Quindi Manca Nonostante tutto Una bella fascia Però la gente Del posto La gente italiana Si è mossa Abbastanza bene Almeno per la nostra zona Che cosa è cambiato Nel modo di lavorare Molta più attenzione Dobbiamo dedicare Alla pulizia Alla sanificazione Istruzione per i ragazzi Che lavorano da noi Si vede proprio Questo timore Nei clienti Quindi Abbiamo eliminato Dei posti C'è stata data Un'area aggiuntiva La gente viene Però se prenotano Magari Chiedono di essere Messi sull'esterno Se si può E se Si può stare distanziati Ma questo L'abbiamo sempre fatto È chiaro che Quando d'inverno È tutto chiuso Si dovrà ridurre Di molto La quantità di persone Oppure si terrà Comunque sollevate Le tende In modo che Possono mangiare Ugualmente La cronaca Quattro studenti Universitari Di età Compresa Tra i 19 E 22 Anni Sono stati Denunciati Per rissa Dai carabinieri Di Urbino I fatti Risalgono Alla tarda Serata Del 19 Settembre Scorso Quando la Radiomobile È intervenuta In piazza Della Repubblica Nel centro Storico Della città Ducale Dopo una Segnalazione Arrivata Al 112 Dalle indagini E dalla visione Delle immagini Registrate Dalle telecamere Di videosorveglianza I militari Sono riusciti A risalire Tra i 4 giovani Residenti a Fano Pesaro Urbino E nel Meridione I ragazzi Tra i dei quali Con precedenti Di polizia Si erano malmenati Per futili motivi E alcuni di loro Erano dovuti Ricorrere Anche alle cure Del 118 E adesso Parliamo invece Delle maxibollette Che sono arrivate Ad alcune aziende Del fanese Bollette Per il pagamento Della tassa Sui rifiuti Dopo la protesta Di alcuni imprenditori Oggi intervenuta Confindustria Industriali Sul piede di guerra Dopo aver ricevuto Dagli uffici Dell'Andreani Tributili E maxicartelle Sulla Tari La tassa Sui rifiuti A scendere in campo È anche l'associazione Di categoria Confindustria Che dopo le prime Segnalazioni Dieci giorni fa Aveva contattato Le aziende fanese Associate Per chiedere Segnalazioni E verificare Di conseguenza Le anomalie Segnalazioni Che ci sono arrivate In particolare In casi Dove La rilevazione Degli spazi Produttivi Erano totalmente Differenti Da quelli Che rispondono Alla realtà Infatti Come spiega Mauro Papalini Presidente di Confindustria Marche Nord Territoriale Di Pesaro e Urbino Le metrature Delle aziende Risultano maggiori Rispetto a quelle Rilevate E tempo fa Dagli esperti Dati che hanno comportato Un aumento Della tassa In molti casi Retroattiva Fino al 2015 Il regolamento Comunale Però non è cambiato E quindi I magazzini Di fornitura Delle materie prime E le aree produttive Non dovrebbero Essere considerate Perché lo smaltimento Di rifiuti Viene fatto Tramite altre società Le anomalie Più importanti Precise al Presidente Sono emersi Da una non corretta Valutazione Delle metrature Degli stabilimenti In altri casi Invece Gli aumenti di cubatura Dovevano essere comunicati Dagli imprenditori Uno dei casi più eclatanti È quello che Una parte Di uno stabilimento È stato calcolato Per l'intero Quando una porzione Di quello stabilimento Fino a poco tempo fa Era addirittura Affittato A un'altra società Confindustria In questi giorni Sta partecipando A diverse riunioni Per capire il da farsi Mercoledì prossimo Si incontrerà Con i rappresentanti Delle altre associazioni Di categoria Per fare il punto Della situazione E valutare azioni comuni Questo è emerso Che su circa Oltre 80 associati Che abbiamo Sul comune di Fano Questo problema L'hanno riscontrato In 20 Più di 20 Società Queste 20 società Si sono trovate A dover Sborsare Oltre il milione Di euro Abbiamo chiesto Al comune Di rivedere I singoli casi Per riportare Alla normalità Adesso Parliamo invece Di una sfida Una sfida A chi raccoglie Più plastica Più rifiuti In giro Nella zona Di Sassonia E dell'ex Pista dei Gocard Una sfida Accettata Dal gruppo Puliamo Fano E lanciata Dai giovani Dell'associazione E soci BCC Una gara A chi raccoglie Più plastica Questa La sfida Lanciata Dall'associazione Giovani Soci BCC Al gruppo Di volontari Di Puliamo Fano I quali Non hanno esitato Ad accettare Doveva svolgersi A marzo Ma è stata rimandata Ad ottobre Causa covid Ma comunque Non perde di vista Il suo obiettivo Di sensibilizzare La cittadinanza Oltre che ripulire La città Dalla plastica E dai rifiuti L'incontro È previsto Per sabato 10 Alle ore 9 E si svolgerà In zona Sassonia Ex pista Go Kart Di Fano Ci hanno lanciato Il guanto Della sfida Per questa Diciamo così Iniziativa Molto simpatica Su chi raccoglie Più rifiuti E soprattutto Della plastica Dunque ci dedicheremo Alla Sassonia Noi di Puliamo Fano Partiremo Dall'anfiteatro All'asta Tendremo in direzione Sud Mentre loro Partiranno Dalla zona De Coicard E si indirizzeranno Verso Zona Nord A un certo punto Ci incontreremo Peseremo I rifiuti Che abbiamo raccolto E così ci sarà Il vincitore virtuoso Di questa sfida Che ci esalta Ma soprattutto Al di là di chi vincerà La sfida Che chiaramente Non ha importanza E diciamo L'ambiente Che ne avrà sicuramente Un beneficio Perché andremo A rimuovere Dei rifiuti Che altrimenti Finirebbero in mare Inoltre Puliamo Fano Si è anche dotata Di un logo Che sarà impresso Sulle casacche Che i volontari Indosseranno Il giorno dell'incontro Un logo Che racchiude La chiave Dell'iniziativa Che come spiega Uno dei volontari Dante Piermattei Nasce dal cuore E dall'amore Per la nostra città E per la terra Come racconta Il nome stesso Del gruppo I giovani Della BCC Poi forniranno Il giorno della raccolta Anche uno striscione Per rendere Ancora più visibile E riconoscibile L'iniziativa Attirando così L'attenzione Dei cittadini Che si spera Aderiscano In gran numero Agli eventi futuri Da noi È sempre Aperto Per Puliamo Fano Quindi insomma Quello si Anzi Speriamo Che si aggreghi Più gente possibile E adesso Ci spostiamo Alla Rocca Malatestiana di Fano Dove domenica scorsa L'Avis Ha festeggiato I suoi 70 anni di età Oggi viene in veste Di super donatore Perché lei Dona dall'età di 40 anni 39 39 Diciamo così E ha visto crescere L'Avis Fano Praticamente Direi che Sì Il comandatore Solassi Che aveva un rapporto Di lavoro Con lo zuccherifigio Ma ha ruolato E da lì Ma allora C'era Dieci persone Che donano Pochissime La banda Città di Fano Ha accompagnato La partenza Del corteo celebrativo Dei 70 anni Della fondazione Di Avis Fano I festeggiamenti Domenica scorsa Hanno preso il via Con una santa messa Celebrata Da Don Mauro Barnese alla Rocca Malatestiana Seguita dal corteo Per le vie Del centro storico E dalla consegna Delle benemerenze Ai donatori E' la festa Delle donatrici E dei donatori Che quotidianamente Pensano al mondo Della solidarietà Oggi Giorno di San Francesco Patrono d'Italia Ed è anche Una particolarità E' la festa italiana Del dono Proprio di coloro Che fanno Della sussidiarietà E della promozione Di se stessi Agli altri Un evento spettacolare Oltre alle autorità Civili e militari Erano presenti I rappresentanti Del mondo Avis E del centro trasfusionale Nonché Chi ha visto crescere L'associazione fanese Come l'infermiera Manuela Mercanti Andata in pensione Nei giorni scorsi E premiata Per la dedizione La passione E il sorriso Con il quale Ha sempre accolto Tutti i donatori Seduto in platea Anche Alfredo Turolla Turatti Cento anni E quaranta giorni Che per quattro decenni Ha fatto parte Del direttivo Di Avisfano E davano A fine donazione Che cosa? Ti mandavano giù Dalle suore E allora Ti mandavano La bistecca Mezzo litro di vino Oppure il cognac Il cognac Te lo dava subito Arrivata invece Dalla Sardegna Per le celebrazioni La testimonia Al nazionale Antonella Bua Particolarmente Legata a Pesaro Città Della sua rinascita Dove è stata sottoposta Ad un trapianto Di midollo osseo A causa Della talassemia Donatori di sangue Devo Devo la mia vita Se non ci fossero stati Loro Non ci sarei stata io E tra coloro Che hanno dimostrato Un grande cuore C'è sicuramente Signor Orazio Gasperini Con 257 donazioni Di sangue e plasma Mi sento felice Perché Quello che fai Lo fai Per qualcosa di utile E perché C'è veramente Chi è che ha bisogno Auguri E ti spero E complimenti a tutti Allora Noi ci salutiamo qui Vi ricordo Che lunedì prossimo Ospite di Primo Cittadino La trasmissione Di Fano TV Ci sarà il sindaco Di Fano Massimo Seri Questi sono i numeri Di telefono Che potete utilizzare Per Mettersi Mettervi in contatto Con noi Subito dopo Invece Il nostro telegiornale Le previsioni Le previsioni del tempo La pubblicità E poi uno speciale Che si occuperà Di una presentazione Di un libro Che si intitola Arte Storia E archeologia Per colli Al Metauro Che si è tenuta A saltare Appunto Di colli Al Metauro Grazie per averci seguito L'informazione Su Fano TV Torna domani mattina Alle 7 in diretta Con la rassegna stampa Arrivederci